e rossita avevamo pensato di fare un biscotto ancora più grande grande come una mano o grande come un nano pieno di gocce di cioccolato come lacrime di una teenager al concerto di justin bimmer ma poi rossita è stata ammazzata dal volpe ma il volpe non poteva fermare il progetto del biscottone 500 grammi di farina colo ghiacciatissimo il sucravelo due uevas la a riposar 11 minuti 190 gradi e ora ce lo mangiamo tutto in un boccone prima di aver comito rossita con la salsa verde